Autostrade per l'Italia comunica che sulla A26 Genova Voltri-Gravellona-Tocce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e l'allacciamento con la statata... Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Autosalone tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, a piedi mulera. Grazie per la visione!